A una settimana esatta dal ritorno in campo e con la sconfitta di Bisceglio ormai ampiamente archiviata per il termo, da lunedì in poi si apre una settimana importante, non solo sul frontecampionato ma anche per quello che riguarda il mercato. Perché sabato prossimo i biancorossi se la vedranno in anticipo contro l'Avellino di Piero Braglia, una di quelle squadre che oltre a battagliare col diavolo in zona play-off nel mercato estivo aveva in più di una circostanza provato ad esempio a soffiare domenico mungo alla corte di Massimo Paci. In quel caso non c'era stato l'accordo, troppo alte secondo la società Erpina le richieste del termo per lasciar partire il giocatore, che col contratto in scadenza 2022 potrebbe però cercare di giocarsi le proprie chance in biancorosso, anche considerando l'annata finora non proprio positiva di Bombaggi. I biancoverdi che hanno tesserato Ianes e che faranno a meno del laterale Mancino-Burgio hanno sondato il terreno per Brucini che Braglia ha avuto a Cosenza proprio come Mungo, ma che potrebbe invece tornare nel girone A all'Alessandria. No, anche per Del Pinto il centrocampista bruzzese ex L'Aquila, ora in forza al Benevento, avrebbe rifiutato la destinazione biancoverde. Non se la sente di scendere in Serie C avendo richieste anche in B e preferirebbe accettare quantomeno una destinazione in cadetteria. Sul fronte Teramo invece sono le sempre più probabili cessioni di Santore di Achite, entrambi destinazioni sa solo a tenere banco perché l'intenzione specie per il centrocampista è quello di provare a trattenerlo fino alla fine della stagione, anche per non compromettere la stabilità di un reparto, quello nevralgico, che fino a questo momento nella composizione a due con Arrigoni ha dato ampie garanzie sia in fase di possesso che di recupero. Chi partirà certamente invece è Luca Di Matteo che non ha trovato alcuno spazio in questa stagione. Da valutare anche la permanenza del laterale destro di Achite che ha fatto vedere grandi cose anche e soprattutto da centrale difensivo. È evidente che con l'addio di Piacentini a gennaio o a costo zero alla fine dell'annata Paci non può fare a meno anche di Di Achite, a meno che non arrivi un rinforzo importante in terza linea. Sa solo che è un diritto di recompra già fissato anche su Pietro Cianci, ora a Potenza, ma che è appetito anche da molte squadre di Lega Pro. In entrata ancora nessuna novità. D'altronde, Iachini mercoledì mattina è stato chiaro, con l'attuale situazione economica senza uscita importante e difficile, se non impossibile, pensare di fare mercato. Intanto però la squadra ha ripreso a lavorare in vista dell'impegno proprio con l'Avellino di sabato prossimo alle 17.30. Oggi prevista una doppia seduta di allenamento, mentre domani giorno di riposo prima di iniziare una settimana quasi tipo. Perché quello del Bonoli sia uno scontro diretto in piena regola, vincerlo significherebbe non solo iniziare l'anno col piede giusto, ma anche cancellare le ultime uscite del 2020, che hanno portato un bottino di punti troppo misero per non essere risucchiati da una concorrenza molto ampia.